Eeeh, sei di nuovo tu? Lo sapevo io! Quanto bene a prepararmi! E' baffanculo, balbraccona. No, thank you. Adoken! Yes! No, grazie adoken. Va detto che comunque rispetto alla prima volta che l'ho affrontato sono molto più forte. Fuck! Ah, meno male. Scendi, maledetta. Eh, stavolta non c'è storia, maledetta schifosa. Non sono più a livello 16 quanto è questa scontata. Ah, cazzo! Ah! Ah, 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 ah! Yeah! Ah, ah, ah. Grazie, dai! Aldo mi ha salvato il culo! Eeeh! Vedi che puoi fare per questa signora perché è un po' assetata vedi se la puoi aiutare tu, Aldo! Ah, 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 ah! Eeeh Eeeh